Buongiorno a tutti, questo è per ora il mio Kurasame che cercherò di migliorare con le Salmon. Allora, Kurasame è il mio PG preferito di Type 0, quindi anche se fosse stato scarso l'avrei pullato lo stesso. Quindi, andiamo. Tanto sono sicuro di fare piti. Allora, iniziamo dalla free giornaliera. Dai, che se non sculo qua, vuol dire che sculo dall'altra parte, forse. Allora, del banner mi manca la X di Safer, tutti i kit di Kurasame e 15.35 di Edgar, perché la X l'ho trovata nel free due giorni fa. Vabbè, Rem, Powerstone, va bene. Va bene. Lisetta già ce l'ho. Vabbè, Rem, chi non l'ha maxata è una persona male. Prendiamoci subito il libro. Due secondi. Se si connette, veloce e veloce. Allora. Sono libri. Allora, la mia paura più grande del banner è trovare la burst di Warrior of Light. Perché wall è un PG che non voglio buildare, non mi piace. Ho cercato la LD nel caso, sapendo di Kurasame, e non l'ho trovata. 250T. Comunque, andiamo con la free. Aspetta, siccome non voglio sorprese, carico tutte le armi del banner. L'LED, le varie X, 15.35, perfetto. Così non abbiamo connecting strani. Cominciamo. Beh, dorata, dai. Se mi dai subito la X di Safer, diciamo che sto bene, perché trovare subito la X di Safer mi farebbe dire che mi fermo. Cioè, è anche di Kurasame. Perché comunque le LD andrò alpiti, molto probabilmente. 15. Safer, buono. Ok. Quindi posso andare tranquillo. Allora. Di Safer invece mi manca il kit della 15. Già iniziamo male. Allora. C'è miseria. Le 15 me ne mancano due di Kurasame. Mi manca la 35 di Kurasame. Vabbè, ma tanto il power token me la prendo là. Signore. Vabbè. Vabbè. Vuoi vedere che Maxo... Che non sa, eh. Vabbè, nei video di Mont c'è sempre il clear inventario. Perché ovviamente mi dimentico di farlo prima. Sorrata. Allora. Veloce, veloce. Allora, siccome può succedere come nel banner di Hardin, che ho trovato l'ED e burst subito, e sono andato a pitare la X, in questo caso non succederà, per il semplice motivo, che il 12 mi arrivano gli X token, e quindi arrivo a 11 e mi scioppo la X di Kurasame. Sì. Tanto non ne frega niente. Quindi nel caso si tratterebbe soltanto di aspettare fino al 12. Mi farebbe leggermente incazzare, ma vabbè. Succede, succede. Sono abituato. Non è un problema. Continuiamo. Perché più che altro la storia è che io dovrei spendere le risorse anche per il banner di Bamut. Perché se esce Golbez, Golbez mi interessa, sinceramente. Forza. Forza, forza e coraggio, la galera è di passaggio. Va bene. Ma anche qualche volta mi faccio due lingotti free. Però ti prego. Dammi. La X di Kurasame, ti prego. Non ce la faccio più. E sono al terzo pool, eh? Con la gemma. Con la gemma. Quarto cos'è? Cioè... Seifer mi ha portato Jella perché uscì o non l'ho trovato e tutto il resto. 15 di Egg. Cioè... Esistono ancora le multi di Monoro 15. Allora... Altra orba azzurra. Come il pomeriggio. I fiorellini. I fiorellini di nuovo. Questi sono i bouquet che devono portare sulla mia lapide quando morirò. Cioè tra breve perché se non sto trovando nulla... 15. Ah... Che bel. Che bel banner. Rientriamo e usciamo. Tanto. E che carino il Moogle nella sferina. Forza. Mamma mia. Cioè... Più che altro penso di aver pagato abbastanza. Tra 8 wall. Non dico che me la devi dare subito. Però almeno dammela. Ti prego. Ti prego. Please. No vabbè però. Se andiamo qua avanti a Monoro non ci sbrigiamo... Sì vabbè. No questa è l'eskip. No vabbè io... Non ho parole. Vabbè. Sì. Ah grazie. Cioè in tutto... Ma in tutto questo da notare... Che non esce la 35 di Kurasame. Grazie. Mo sarà la ex di Edgar o la ex di Safer a sto punto. Cioè tra l'altro io pensavo che max ho almeno le 15 di Kurasame o la 35 se mi va bene. Però cioè così sembra che non esista Kurasame nel pool. Cioè questo è il banner. Safer edgar. Cioè. Oh. Cioè io tra 3 pool devo chiudere. Tra 3 pool io devo chiudere. E non ho trovato la 35 di Kurasame. Non ho trovato un cazzo di niente. Non ho trovato nulla. Cioè vuoi vedere che manco la 15 di Safer a sto ammazzare. E in... E poi lo faccio il clear dopo. Guarda mia però eh. Cioè dico sì che uno deve essere sfigato. Ma fino a sto punto. Madonna mia. Cioè guarda se... All... Se non sono le ex. Sicuro è la busta di Wall. Che non la voglio. Giusto per non darmi la ex di Kurasame e chi te vivi. 15. E vai rotti i coglioni. E va... Cioè io... Non ho parole. Vabbè basta. Abbiamo capito com'è andata. Grazie. Ma non dovevi. Allora. Questa è scommessa. Basta di Wall. Ex di Kurasame o Ex di Safer. La cosa bella sarebbe il... Proprio... La LD di Kurasame così. Ma comunque i Raid fanno completamente schifo. La miseria però. E in tutto questo... La cosa divertente... E che... Grazie. Almeno... Almeno si può dire... Che colpiti. Ho chiuso il banner. Però... I Raid... Completamente... Imbarazzanti. Imbarazzanti. Questo perché... Non le trovi subiti. Fangula va. Ah non me la fai meno prendere. Bastardo. Buona vita. E ricordate... DI BESTEMIARE! E' E' A' E C' E' Grazie.